Campionato di Serie 1 femminile di pallannuoto, non può essere soddisfatto il Pescara che in casa contro il Rapallo perde per 5 a 8. Era uno scontro diretto per evitare la retrocessione. I parziali 2-3, 2-1, 0-2, 1-2. Maurizio Gobbi, l'allenatore, io ho detto che il Pescara non può essere soddisfatto, ma bisogna dire che l'impegno c'è stato. Poi c'è stato un blackout nel terzo tempo che di fatto ha compromesso la partita. E poi altro dato abbastanza eloquente, le superiorità numeriche. Proprio non riuscite a migliorare la percentuale a vostro favore. Qui si decide la partita. Sicuramente, anche perché dipende dai momenti in cui arrivano le superiorità numeriche e nei momenti in cui si sbagliano. Ci sono momenti topici nel corso della partita e lì bisogna cercare di mettere la palla dentro. Loro l'hanno fatto proprio nei momenti più importanti e noi non siamo stati capaci. L'impegno sicuramente c'è stato. Come devo dire, dopo la partita con il Bologna, veramente disastrosa, c'è stato sempre impegno in tutte le altre partite. Il rammarico è non riuscire a dare una gioia al pubblico di casa. Visto che siamo riusciti a vincere una partita in trasferta, mi avrebbe fatto molto piacere per noi, per la classifica, per la dirigenza e per il pubblico vincere anche una partita in casa. Il nostro scopo sarà quello di farlo da qui alla fine. Ecco, era uno scontro diretto perché improvvisamente con la vostra fiammata in trasferta a Cosenza si era riaperta anche la possibilità di salvezza. Certo, adesso gestire questa sconfitta con il Rapallo come sarà per Maurizio Gobbi, allenatore per il Pescara Palla Nuoto? Noi abbiamo cinque partite, sulla carta tutte proibitive o quasi, però per noi la proibitiva è anche quella di Cosenza, poi andando un po' liberi di mente abbiamo vinto la partita bene lì. Non ci possiamo tirare indietro fin quando la matematica non ci condanna. Probabilmente il Rapallo è andato via, ma i risultati saranno quelli che penso. Il Cosenza è sempre a quattro punti, quindi ha due vittorie da noi e hanno un calendario molto difficile anche loro. Per cui abbiamo il dovere in queste ultime cinque partite di provarci senz'altro fino alla fine. È una domanda che può essere banale, insomma buttiamola così sui numeri, ma quando in allenamento voi provate le superiorità numeriche, immagino che le percentuali siano nettamente superiori che in partita perché uno su nove non è solo il dato della partita contro il Rapallo, ma un po' di tutte le ultime partite. Problema mentale, problema di che tipo secondo te? Non vorrei minimizzare la cosa, ma secondo me veramente lì viene fuori l'età della squadra e l'inesperienza. Perché in partita in allenamento, anche sotto stress, la palla circola molto meglio, si trovano buone soluzioni. In partita è come se scattasse un blackout e non si vedono le compagne libere, non si vedono le avversarie. So che è difficile giustificare in questo modo questa cosa, però il dato che vedo io è questo. Oggi abbiamo sbagliato loro in più, non so quanti passaggi elementari, quindi vuol dire che la palla scotta troppo perché si capisce che quel momento è molto molto importante. Non riesco a trovare altre giustificazioni perché in allenamento si vedono anche delle cose molto molto buone, ma purtroppo la partita è sempre un'altra cosa.